ciao ragazzi benvenuti in questo video in questo momento sto facendo la cicletta comunque ragazzi voglio fare una specie di gioco intanto ancora quel gioco di prima non ho riconosciuto chi è quel calciatore della juve comunque vi do un altro aiuto tanto quel calciatore è stato campione del mondo nel 82 ha vinto quasi tutto con la juventus ha fatto molte presenze con la maglia bianconera e non è un attaccante comunque questa domanda è facilissima anche questo è difficile voglio parliamo di drag ball voglio sapere quanti nemici canonici ha eliminato goku non parlo di bracci destri di guardia del corpo parlo di nemici canonici come freezer cell majin baby parliamo e vale solo per dragon ball dragon ball z e dragon ball gt vi aiuto 1 0 o 3 che una di queste delle domande è giusta dico ripeto quanti quanti nemici ha eliminato goku non valgono neanche film ma ripeto dragon ball z dragon ball e dragon ball gt le domande sono 1 2 o 0 rispondete facilissimo forse se se